fratelli nel signore ho visto che stanno avanzando cosiddetto questo gruppo questa nuova moda gruppo movimento movimento filosofico chiamato vegani noi vegani ho visto che stanno crescendo di numero visto anche qui nella città in città a ravenna che tutti i bar tutti i ristoranti si stanno attrezzando per fare delle delle bevande vegane cibi vegani e quindi mi sono reso conto veramente che stanno che stanno avanzando adesso che sia una moda passeggera o altro non lo sappiamo però ho visto che sono aggressivi anche qui su facebook cioè quando vedono magari carne quando vedono qualche pietanza dove c'è la carne sono sono aggrediscono diciamo le persone aggrediscono quelle persone che mangiano la carne ora noi dal nostro punto di vista cristiano quindi ci dobbiamo domandare se ci attaccano ci dicono ma voi non dovete mangiare carne perché ci dobbiamo avere la risposta nelle sacre scritture quindi oggi affronteremo appunto questo 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 tema questo argomento che è quello che i cristiani possono mangiare anche carne i cristiani possono mangiare vegetali i cristiani possono mangiare anche carne i cristiani possono mangiare tutte e due le cose o come si sentono come si sentono di fare secondo cosa gli dice loro la coscienza quindi oggi parleremo di alcuni passi che ci confermano che possiamo noi mangiare che è volontà di dio che gli uomini mangino la carne perché la volontà di dio è anche per tutti gli uomini non è solo per i cristiani quindi è volontà di dio che gli uomini mangino anche la carne così come anche i vegetali e iniziamo dall'inizio dalla genesi al capitolo 1 al versetto 29 qui siamo al principio quando ancora l'uomo non aveva peccato quando l'uomo non aveva ancora peccato il dio ha stabilito questo tipo di cibo guardate cosa cosa dice il signore 1 29 di genesi e dio disse ecco io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra ed ogni albero fruttifero che fa seme questo vi servirà di nutrimento e ad ogni animale della terra e ad ogni uccello dei cieli e a tutto ciò che si muove sulla terra ed ha in sé un soffio di vita io do ogni erba per nutrimento e così fu quindi cosa cosa aveva stabilito il signore il peccato ancora non c'era quindi lo spargimento di sangue ancora non c'era da nessuna parte neanche per per né per il cibo né per i sacrifici né per niente non c'era il peccato non c'era la corruzione nell'uomo non c'era la corruzione neanche nella natura e dio cosa ha stabilito ha stabilito che gli animali e anche l'uomo dovevano cibarsi diciamo dell'erba e della frutta praticamente erba di vegetale erba frutta e tutto quello che cresceva dalla terra ma non di animali questo all'inizio prima del peccato dell'uomo ma dopo cosa avviene avviene che l'uomo pecca si contamina la corruzione entra dentro di lui e la corruzione entra dentro i discendenti di 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 Adamo e di Eva che peccarono con questa corruzione è avvenuto anche un cambiamento un cambiamento anche per quanto riguarda l'alimentazione ora per quanto riguarda l'alimentazione quindi il dio ha voluto ha stabilito che per l'alimentazione si ci gli anni sia gli animali che anche l'uomo cominciassero a cibarsi anche di animali e gli animali di altri di altri animali così il dio ha stabilito ora così è scritto e così noi diamo dobbiamo dire cioè all'inizio prima della corruzione l'uomo si cibava solo di frutta e di verdura dopo la corruzione dopo che è entrato nel mondo il peccato dopo che Adamo ed Eva peccarono ecco che troviamo ecco che troviamo anche anche prima erano addirittura nudi no quindi non è che si vestivano non si vestivano neppure Adamo ed Eva non avevano problemi di vestirsi quindi gli animali non servivano neanche come come abbigliamento per per Adamo ed Eva erano nudi e non se ne vergognavano perché ancora il peccato non era entrato nella terra non era entrato nel nella creazione non era entrato nel nel corpo nel nell'uomo dopo che invece dopo che invece è entrata la corruzione con il peccato di Adamo ed Eva entrò la corruzione quindi non solo nell'uomo anche nella natura ecco che tutto è un po viene sconvolto l'ordine iniziale viene sconvolto non perché è sfuggito qualcosa dalle mani del Signore ma perché così Dio ha stabilito ha stabilito in questa maniera si cominciava praticamente essendo entrato il peccato ecco che si comincia a intravedere qual è la soluzione per la remissione dei peccati perché voi sapete che sta scritto che senza spargimento di sangue non c'è remissione dei peccati quindi quindi vedete già accanto al peccato si comincia a intravedere questo spargimento di sangue che praticamente annuncia annuncia il sacrificio preannuncia quindi quel sacrificio che doveva compiere l'agnello di Dio cioè Gesù Cristo morendo sulla croce per spargere e spargere così il suo sangue attraverso e mediante il quale mediante il quale mediante il sangue di Cristo Gesù il peccato viene purificato viene espiato non c'è un altro modo per espiare il peccato ma soltanto il peccato può essere espiato purificato perdonato solamente per la fede nel sacrificio che Cristo Gesù ha compiuto quindi non esiste il purgatorio apro ho aperto questa parentesi perché è sempre bene ricordare il sacrificio che il nostro Signore Gesù Cristo ha compiuto il sangue che lui ha sparso per purificare per purificarci dai peccati ora detto questo che è entrata la corruzione quindi anche nella natura nell'uomo e in tutta la natura vediamo ora dove sta scritto che il Dio ordina appunto all'uomo di cibarsi di animali cominciamo con Noè dopo che ci fu dopo che la corruzione della terra arrivò a livelli che Dio non ha potuto più sopportare ha mandato il diluvio e ha salvato solamente dal diluvio ha salvato otto persone otto anime tra cui Noè predicatore di giustizia quando il diluvio terminò e Noè scese dall'arca il Dio ordinò a Noè di portare di costruire un'arca e di far salire sull'arca animali puri e impuri ecco tutti gli animali della terra alcune specie degli animali della terra alcune coppie degli animali puri sette coppie di animali mentre degli animali impuri tre coppie quindi fu stabilito da Dio fu stabilito da Dio che entrassero nell'arca quindi il Dio salvò nell'arca sia gli otto uomini quindi la discendenza umana e sia praticamente gli animali che poi si sono riprodotti alla fine del diluvio alla fine del diluvio il Dio fa un patto con Noè e ora leggiamo leggiamo appunto le parole che Dio rivolse a Noè e questo lo leggiamo al capitolo 9 di Genesi Genesi capitolo 9 ai primi versetti sta scritto così e Dio benedisse Noè e i suoi figlioli e disse loro crescete moltiplicate e riempite la terra e avranno timore e spavento di voi tutti gli animali della terra e tutti gli uccelli del cielo essi sono dati in potere vostro con tutto ciò che striscia sulla terra e con tutti i pesci del mare tutto ciò che si muove e da vita vi servirà di cibo io vi do tutto questo come l'erba verde ma non mangerete carne con la vita sua cioè col suo sangue vedete quindi Dio stabilisce qui il cibo di Noè e lo chiarisce lo chiarisce sia l'erba che praticamente tutto ciò che si muove con un soltanto con un obbligo l'obbligo che Dio ha stabilito quindi qui Dio sta facendo sapere qual è la sua volontà nei confronti di Noè infatti gli dice che può mangiare di tutto quello che si muove però non deve mangiare il sangue vedete che dice non mangerete carne con la vita sua cioè col suo sangue perché la vita dell'animale è nel sangue e il sangue appunto è questa vita che preannuncia infatti la vita che è nel sangue la vita è anche la purificazione quindi per questa vita che è stata sparita che è stata sacrificata la vita di Gesù Cristo il sangue è stato sparso quindi la vita è stata sacrificata per la purificazione dei nostri peccati questo preannunciava questo divieto preannunciava e ricordava quindi il sacrificio che Cristo doveva venire a compiere così come poi Dio ha stabilito attraverso la sua legge data a Mosè i vari sacrifici che dovevano essere diciamo compiuti i sacrifici per l'espiazione del peccato del popolo che dovevano essere compiuti con lo spargimento del sangue tutto questo non faceva altro che ricordare non faceva non fa altro che ricordare quello che doveva compiere Gesù e oggi noi appunto pensando al sangue perché il divieto di non mangiare il sangue rimane ancora per oggi e badate bene anche oggi rimane il divieto anche per noi gentili di non mangiare il sangue quindi quando vediamo il sangue dobbiamo ricordarci che il sangue di Cristo è stato sparso che la vita di un animale è nel sangue e per quel sangue per quella vita che è stata che viene sacrificata che è stata sacrificata che la vita di Cristo per quella vita sacrificata noi abbiamo avuto vita noi abbiamo avuto una rinascita una rigenerazione spirituale con la conseguente espiazione dei nostri peccati quindi questo ci dobbiamo sempre ricordare questo è comandato è stato comandato all'inizio ed è comandato anche oggi sotto la grazia che noi non dobbiamo mangiare la carne con il suo sangue non dobbiamo mangiare né il sangue da solo e né la carne con il sangue in essa quindi la carne la possiamo mangiare ma avendo la prima depurata il più possibile del sangue che c'è in essa quindi ci dobbiamo attrezzare metterla bagno in acqua fare mettere in atto tutto quello che dobbiamo mettere è nato affinché il sangue sia tolto di mezzo dalla carne quindi affinché noi mangiamo solo la carne in obbedienza al comandamento di Dio per tornare al nostro soggetto che è quello che noi ci siamo partiti domandandoci se la scrittura ci insegna che il credente può anche mangiare la carne vedete qui Dio ha dato ordine a Noè di mangiare la carne soltanto di non mangiarla con il sangue quindi a Noè è stato vedete dopo il diluvio dopo dopo che ci fu il diluvio con quale Dio distrusse tutto tutto diciamo gli esseri viventi che erano sulla terra perché la terra si era ormai corrotta oltremodo e Dio ha punito tutti quegli esseri viventi li ha distrutti li ha fatti morire ma salvò Noè Noè e la sua famiglia a Noè disse che poteva mangiare la carne vedete quindi quindi già qui abbiamo un primo passaggio siamo passati da un punto in cui abbiamo visto che Dio aveva dato in principio da mangiare agli uomini soltanto diciamo la frutta la verdura i vegetali perché ve l'ho citato quel passo quel passo ve l'ho citato perché qualcuno potrebbe venire a dire ma nel principio Dio aveva stabilito questo è vero ma noi lo riconosciamo nel principio quando ancora non c'era la corruzione la corruzione nell'uomo e in tutta la terra nella anche nella natura quando la corruzione non era su questa terra allora allora e Dio aveva stabilito in quella maniera ma dopo le cose sono cambiate e ci sono i passaggi biblici quindi dobbiamo sempre ricordarci che dobbiamo guardare alla somma della parola quindi non è che ci dobbiamo attenere attenere solo ad un passaggio biblico che pur c'è e lo dobbiamo conoscere ma poi ci sono tutti gli altri che adesso vediamo quindi a noi di ordinato che doveva mangiare carne e anche vegetali è chiaro quindi poteva mangiare di tutto andando avanti no il popolo di israele che era in egitto prima dell'ultima piaga che era quella della morte dei primogeniti sia degli animali che delle che diciamo degli uomini i primogeniti fu l'ultima piaga col quale dio colpì l'egitto e ordinò per non essere colpiti dalla piaga ordinò al popolo di israele di sacrificare un agnello chiamato la pasqua appunto un agnello un agnello che l'avrebbero dovuto mangiare quella notte che sarebbe passato lo sterminatore il distruttore quello che uccideva avrebbe 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 ucciso i primogeniti sia degli egiziani che anche di tutti gli animali di quell'agnello che avrebbero avessi avrebbero anche hanno sacrificato hanno preso del sangue l'hanno messo sugli stipiti e sull'architrave e quello era il segno era il segno che in quella casa diciamo non doveva passare lo sterminatore il distruttore no e così dovevano mangiare dovevano mangiare quest'agnello quest'agnello che avevano sacrificato lo dovevano mangiare per intero in quella notte con le erbe amare e vediamo come scritto nella parola noi ci atteniamo leggiamo soltanto i passaggi quelli che ci riguardano per quanto riguarda il mangiare la carne è questo per dimostrare che è volontà di dio che l'uomo mangi la carne cioè non è una cosa violenta che ci siamo inventati noi è una cosa necessaria è una cosa che dio così ha stabilito ora uno può anche mangiare solo legumi come ha fatto il profeta daniele però però deve essere pienamente convinto nella sua coscienza nella sua mente nel suo cuore e non deve assolutamente diciamo criticare altri che mangiano di tutto che mangiano sia legumi che che anche la carne questo è lo scopo per cui stiamo parlando oggi di questo argomento che noi dobbiamo sapere che il cristiano può mangiare di tutto però non deve giudicare non deve disprezzare quelli che invece magari mangiano solo legumi non li deve disprezzare se loro si sentono di mangiare solo verdure solo legumi allora così facciano pure facciano come vogliono non c'è per noi non c'è problema l'importante è che siano pienamente convinti però loro non possono dire a noi accusarci attaccarci e dire ma voi perché uccidete gli animali per mangiarli togliete la vita agli animali e perché così dio ha stabilito ha stabilito anche questo purtroppo dopo la corruzione e dio ha stabilito anche questo ora tornando al popolo di israele che era in egitto che la notte che cominciarono a preparare per uscire dall'egitto ecco cosa mangiarono quest'agnello lo sacrificarono e lo mangiarono ecco cosa cosa è scritto capitolo 12 di esodo al versetto 9 cominciamo dal versetto 3 12 3 di esodo parlate a tutta la raunanza di israele ditte il decimo giorno di questo mese prenda ognuno un agnello per famiglia un agnello per casa e se la casa è troppo poco numerosa per un agnello se ne prenda uno in comune col vicino di casa più prossimo tenendo conto del numero delle persone voi conterete ogni persona secondo quel che può mangiare dell'agnello il vostro agnello sia senza difetto maschio dell'anno potrete prendere un agnello o un capretto lo serberete fino al quattordicesimo giorno di questo mese tutta la raunanza di israele congregata lo immolerà sull'imbrunire e si prenda del sangue adesso e si metta sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà e se ne mangi la carne in quella notte si mangi arrostita al fuoco con pane senza lievito e con delle erbe amare poi da altre istruzioni comunque vedete per quanto riguarda per quanto riguarda quindi mangiare la carne vedete ancora una volta il dio ha stabilito che il popolo il suo popolo ma mangi mangi della carne quindi vediamo che questa è volontà di dio che l'uomo mangi la carne rientra nella volontà di dio perché il nostro problema qual è domandarci che la domanda che ci facciamo è quella che noi dobbiamo sapere se secondo la volontà di dio quella di mangiare carne vedete ancora una volta quindi la volontà di dio si è manifestata con la possibilità per il suo popolo di di mangiare carne quindi in questo caso la carne di agnello per quanto riguarda le altre carni questo lo andiamo a vedere ad esempio in numeri no adesso abbiamo visto certi animali vediamo le quaglie le quaglie le vediamo nel libro di numeri quando il popolo di dio che viaggiava nel deserto verso la terra promessa si fece prendere da da dalla concupiscenza avvenne questo capitolo al capitolo 11 di numeri dal versetto 4 dice così e la cozzaglia di gente raccogliticcia che era tra il popolo fu presa da concupiscenza e anche i figlioli di israele ricominciarono a piagnucolare e a dire chi ci darà da mangiare della carne ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in egitto per nulla dei cocomeri dei poponi dei porri delle cipolle e degli agli vedete quindi ricordavano erano nel deserto il dio ci bava il suo popolo solamente con la manna con la manna e anche una determinata quantità quindi non non potevano mangiarne quanto volevano ma la quantità che dio aveva stabilito ogni giorno e si ricordavano si ricordavano della carne che mangiavano in egitto del pesce e di tutte quelle verdure che mangiavano in egitto vedete quindi già qui ci viene detto che il popolo d'israele mangiava sia pesce che carne cosa è avvenuto cosa è avvenuto che dio ha ascoltato questo mormorio attenzione dio non è che ha gradito questo mormorio ma ha manifestato la sua potenza se lui vuole provvedere del cibo della carne lui lo poteva provvedere anche nel deserto capite quindi questo racconto che è un racconto triste un racconto di giudizio verso il popolo di israele perché si fece prendere dalla concupiscenza della carne che voleva mangiare voleva mangiare per forza quello che diceva lui mentre non non hanno pensato che dio li voleva mettere alla prova dio li stava mettendo alla prova anche per quanto riguardava il cibo e hanno mormorato hanno si sono fatti prendere da quella concupiscenza da quel desiderio intenso di voler mangiare carne e dio gliel'ha provveduta dopo gli ha mandato anche il giudizio ne ha fatti morire molti ma guardate come dio ha provveduto ha provveduto degli uccelli delle quaglie in modo particolare e lo leggiamo sempre in numeri 11 al versetto 31 e un vento si levò per ordine dell'eterno e portò delle quaglie dalla parte del mare e le fe cadere presso il campo sulla distesa di circa una giornata di cammino da un lato e una giornata di cammino dall'altro intorno al campo e a un'altezza di circa due cubiti sulla superficie del suolo il popolo si levò e tutto quel giorno e tutta la notte e tutto il giorno seguente raccolse le quaglie chi ne raccolse meno ne ebbe dieci omer e se le distesero tutti intorno al campo ne avevano ancora la carne fra i denti e non l'avevano per anco masticata quando l'ira dell'eterno si accese contro il popolo e l'eterno percosse il popolo con una gravissima piaga sì il dio prima ha mostrato se lui che lui è potente da provvedere anche il cibo anche la carne il dio è potente da provvederci tutto ciò di cui noi abbiamo bisogno ma largamente ma largamente non solo nei al minimo ma largamente ci può provvedere tutto quello di cui abbiamo bisogno se dio ci sta privando di qualche cosa è per un motivo è perché dio ci sta mettendo forse alla prova no quindi dobbiamo superare la prova vedete questi hanno mormorato il popolo di israele ha mormorato ed è stato colpito poi dalla piaga di dio ne percosse molti però vedete qui ci interessa questo racconto per vedere per vedere che dio stabilì che dovessero ha provveduto le quaglie quindi le quaglie erano tra quegli animali che tra quegli uccelli del cielo che potete che diciamo il suo il popolo di dio poteva mangiare mangiava quindi ancora una volta è confermata la volontà di dio che il suo popolo mangi mangi anche degli uccelli del cielo in questo caso degli animali e anche degli uccelli del cielo qui ha provveduto le quaglie al suo popolo poi l'ha punito però le quaglie le ha provvedute e hanno cominciato a mangiarle le quaglie non furono puniti perché mangiavano le quaglie non furono puniti percossi da dio perché mangiavano carne no ma perché sono stati presi da quella concupiscenza e hanno mormorato contro dio senza cioè avevano visto quando sono usciti dall'egitto avevano visto le grandi segne prodigi che dio aveva fatto avevano visto le piaghe d'egitto che erano cadute sopra il popolo ribelle che era l'egitto sopra faraone hanno visto come dio gli ha aperto una via laddove non c'era una via cioè nel mar rosso li ha fatti passare come sull'asciutto l'acqua si è aperta l'acqua del mare hanno visto che dio è potente ha fatto scatturire dell'acqua nel deserto il dio ha provveduto il minimo necessario quello che gli era necessario gliel'ha provveduto scendeva la manna tutti i giorni tranne il sabato scendeva la manna che per provvedere loro il cibo quello che gli era necessario capite il dio provvedeva eppure eppure si sono fatti prendere dalla concupiscenza quindi facciamo attenzione fratelli a non farci prendere da nessun tipo di concupiscenza carnale di nessun genere nessun tipo perché potrebbe esserci una conseguenza quindi quindi dobbiamo essere moderati in ogni cosa anche nel mangiare la carne cioè noi diciamo che il credente l'uomo in genere può mangiare la carne la può mangiare perché è volontà di dio che l'uomo mangi la carne però attenzione anche nel mangiare la carne bisogna essere moderati no ricordatevi sempre che nei credenti abita lo spirito santo è uno dei frutti scusate tra una parte del frutto dello spirito c'è anche la temperanza c'è l'essere controllati in ogni cosa moderati nella soddisfazione dei propri bisogni quindi non è che noi possiamo mangiare carne e noi possiamo mangiare a chili e chili e chili ogni volta che ci mettiamo a tavola eh dobbiamo essere moderati sia nel bere vino no perché diciamo molte volte di essere moderati nel bere del vino perché ci possono avere delle ubriacchezze ma bisogna essere moderati anche nel soddisfare nel soddisfare il bisogno di mangiare bisogna essere moderati anche nel mangiare qualsiasi tipo di cibo carne verdure quello che è quindi quindi dobbiamo essere temperati in ogni cosa però dobbiamo sapere che la volontà di dio è quella che l'uomo deve può mangiare anche la carne non è una cosa vietata quindi dio la stabilita e dio lo vuole e secondo è conforme alla sua volontà e questo è confermato ancora lo leggiamo anche quando dio ha dato la legge la legge a mosee tra le tante cose che gli ha detto il dio nel nella legge che dio ha ordinato di osservare a mosee c'era anche quella che riguardava il cibo c'era quella che riguardava il mangiare e gli ha dettagliatamente descritto qual era la volontà di dio riguardo il cibo i cibi che il popolo di dio doveva mangiare e il cibo che invece non doveva mangiare che adesso andiamo a leggere qualche versetto quindi nel libro della legge c'è il levitico al capitolo al capitolo 11 il dio ordina a mosee da delle prescrizioni per quanto riguarda il cibo e dice ne leggiamo qualcuno più rappresentativo naturalmente qui il dio fa la distinzione tra animali puri e animali impuri però a noi ci interessa il fatto che comunque degli animali si potevano mangiare il dio aveva stabilito che era secondo la sua volontà quindi nella legge era prescritto che l'uomo comunque mangiasse degli animali anche se il dio aveva fatto la distinzione tra animali puri e animali impuri ora capitolo 11 di levitico primo versetto vediamo cosa dice poi l'eterno parlo a mosè e ad aronne dicendo loro parlate così ai figlioli di israele questi sono gli animali che potrete mangiare fra tutte le bestie che sono sulla terra capite quindi qui il dio stabilisce quali sono gli animali che il popolo di israele poteva mangiare quali no poi andando avanti dice mangerete di ogni animale che ha l'unghia spartita e al pie forcuto e che rumina ma di fra quelli che ruminano e di fra quelli che hanno l'unghia spartita non mangerete questi il cammello perché rumina ma non ha l'unghia spartita lo considererete come impuro il coniglio perché rumina ma non ha l'unghia spartita lo considererete come impuro la lepre e così via fa tutta una serie di animali delle determinate caratteristiche degli animali e dava ordine al popolo di mangiare certi animali e altri no quindi comunque è stabilito questa era la volontà di dio che la carne che la carne il popolo il suo popolo l'uomo in genere poteva mangiare la poteva mangiare quindi chiunque si accosti a noi e ci dica e ci dica ah ma voi uccidete voi capite perché dovete vedere sempre in questi attacchi l'azione del maligno che cerca di turbare di mettere confusione dubbio nei cuori e nella mente delle persone e siccome questo gruppo di vegani sta avanzando sempre più sta avanzando questa moda questa filosofia di diciamo di rispettare gli animali e quindi di non servirsi degli animali di non di non ucciderli non mangiarli questa questa crescere di questo gruppo filosofico che va avanti con questo tipo di filosofia sta facendo se non l'ha già cominciato ma comincerà a fare pressione anche sulla chiesa quindi il credente deve conoscere questi passaggi perché prima di tutto non deve essere smosso lui non deve essere instabile deve conoscere per poter rimanere fermo nella parola quindi chiunque venga a me a dirmi ma tu non devi mangiare carne perché uccidi una persona e dio non vuole che tu uccida io gli rispondo con le sacre scritture capite quindi noi dobbiamo conoscere tutte queste cose affinché quando si crea quando ci sarà il problema quando ci sarà qualcuno che ci verrà a mettere il dubbio confusione o meglio tenti di mettere il dubbio alla confusione noi gli diciamo alto sta scritto così la volontà di dio è questa e quest'altra quindi non devono portare nessuna confusione e nessun dubbio nella nostra mente nel nostro cuore quindi noi dobbiamo essere saldi e fermi in tutta in tutta la verità poi guardate ritorniamo al libro della legge quindi gli animali che potevano fatto un elenco di animali che potevano mangiare le caratteristiche che dovevano avere gli animali che il popolo di israele poteva mangiare poi al versetto 9 quindi 11 9 di levitico descrive quali pesci si possono mangiare questi sono gli animali che potrete mangiare fra tutti quelli che sono nell'acqua mangerete tutto ciò che ha pinne e scaglie nelle acque tanto nei mari quanto nei fiumi vedete e poi descrive e dice i pesci li potete mangiare però quelli che il dio aveva stabilito dove dovevano avere pinne e squame e quelli e vedete quindi era volontà di dio che l'uomo mangiasse anche i pesci anche se c'erano quelli impuri però si potevano mangiare anche i pesci gli animali e pesci questo nella legge perché la legge ci fa conoscere ciò che è peccato la legge ci fa sapere cosa è peccato c'è cosa è secondo la volontà di dio e cosa è secondo dio peccato quindi se nella legge c'è scritto che gli animali si possono mangiare i pesci si possono mangiare addirittura anche gli insetti si possono mangiare e questo lo leggiamo più avanti al versetto 20 quindi 11 20 sempre prima il versetto 13 vedete versetto 13 parla ancora degli uccelli quindi al versetto 13 dice è fra gli uccelli avrete in abominio questi non se ne mangi sono un abominio l'aquila lo sifraga l'aquila di mare il nebbio e ogni specie di falco ogni specie di corvo lo struzzo il barbagiano il gabbiano ogni specie di sparviere il gufo lo smergo libi il cigno il pellicano la voltoio la cicogna ogni specie di airone lupupa e il pipistrello vedete questi erano quegli quegli uccelli che non si potevano mangiare quindi gli altri gli altri come le quaglie come abbiamo visto le quaglie le quaglie si potevano mangiare c'erano quelli che non si potevano mangiare e quelli che invece si potevano mangiare come dicevo anche gli insetti ad esempio al versetto al versetto 20 il dio stabilisce che si possano mangiare anche degli insetti al versetto 20 vi sarà pure in abominio ogni insetto alatto che cammina su quattro piedi però fra tutti gli insetti alatti che camminano su quattro piedi mangerete quelli che hanno gambe al di sopra dei piedi per saltare sulla terra le famose cavallette le locuste vi ricordo che giovanni battista quando predicava quando era sul era nel deserto e predicava e si cibava di miele selvatico e di locuste le locuste è un tipo di cavallette quindi vedete anche gli insetti anche gli insetti è volontà di dio che possano essere mangiati questa è la volontà di dio poi se uno non li mangia perché io non ho piacere di mangiare locuste insetti per dire non ho questo piacere non mi non mi piace cioè non 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 li voglio mangiare se mi troverò un giorno in necessità è chiaro che vedrò se riesco a mangiarli se sono nel deserto ci sono solo locuste sono giorni che non mangio è chiaro che se ne ho bisogno per vivere dovrò decidere se mangiarli oppure no però se posso scegliere io non gradisco mangiarli però non posso dire niente a quelli che invece li mangiano giovanni battista ad esempio li mangiava mangiava le locuste perché così il dio aveva stabilito che si potevano mangiare anche anche questi tipi di insetti quindi questa è la volontà di dio noi ci dobbiamo attenere ad ogni cosa alla volontà di dio anche anche nel mangiare quindi il mangiare è volontà di dio che l'uomo mangi mangi anche dei animali uccelli pesci e anche insetti questa è la volontà di dio e questo a questa noi ci atteniamo poi se noi non li mangiamo per una questione di di gusto personale non li gradiamo quella è un'altra cosa ma io se non posso accusare e condannare uno e riprendere uno che sta mangiando locuste non posso riprendere uno che sta mangiando uccelli che sta mangiando altri animali capite perché la volontà di dio è che questi animali questi esseri viventi possano essere mangiati quindi così dio ha stabilito se io voglio mangiare solo legumi sono libero di farlo però però non posso giudicare quello che invece mangia anche carne carne e legumi capite cioè il problema sta che uno è libero di mangiare quello che vuole però non può giudicare gli altri che invece hanno un'alimentazione diversa ora il fatto delle carni ci stiamo ci dobbiamo domandare se volontà di dio che noi mangiamo la carne gli animali e stiamo appunto esaminando questo questo i passaggi biblici che ci confermano che volontà di dio che anche gli animali possano essere mangiati quindi abbiamo visto quindi anche gli insetti abbiamo visto che c'è una distinzione tra animali puri e impuri la legge faceva una distinzione tra animali puri e impuri tra animali che si possono mangiare e animali che invece non si possono mangiare ma cos'è successo con l'avvenuta di gesù ora andiamo a leggere un passaggio un passaggio le parole di gesù che le parole di gesù che ci confermano che oggi tutti i cibi sono stati fatti puri quindi oggi non ci sono più animali impuri il coniglio vi ricordate abbiamo letto il coniglio non si poteva mangiare sotto la legge sotto la legge non si poteva mangiare mentre adesso il popolo di dio può mangiare il coniglio la lepre la può mangiare e così tutti gli altri animali dichiarati impuri perché perché gesù ha detto queste parole quindi dobbiamo andare leggiamo nel vangelo di marco non leggiamo dal vangelo di marco al capitolo 7 al versetto dal versetto leggiamo dal dal 17 e quando lasciata la moltitudine fu entrato in casa i suoi discepoli lo interrogarono intorno alla parabola ed egli disse loro siete anche voi così privi di intendimento non capite voi che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare perché gli entra non nel cuore ma nel ventre e se ne va nella latrina così dicendo dichiarava puri tutti quanti i cibi ricordatevi questo versetto biblico fratelli lo dovete imparare a memoria e lo dovete trovare nella bibbia perché questo vi servirà sempre vi servirà sempre perché vi servirà sempre perché non solo ci sono i vegani che dicono di non mangiare animali ci sono ci sono addirittura in mezzo ai protestanti in mezzo ai credenti e in mezzo ai credenti evangelici che ti come ad esempio gli avventisti che vengono a te ti dicono tu la carne di maiale non la puoi mangiare gli animali impuri non li puoi mangiare puoi mangiare gli altri animali ma non quelli impuri ebbene fratelli oggi noi invece possiamo mangiare tutti i tipi di animali perché gesù ha detto che non è quello che entra nel ventre non è quello che noi mangiamo che passa per la bocca e poi va a finire nella latrina cioè nelle fognature non è quello che contamina l'uomo quello che contamina l'uomo è quello che esce nel cuore quello che penetra nel cuore e che esce dal cuore in maniera malvagia quello che penetra nel cuore ci fa danno quello ci sono sono altre le cose che ci contaminano sono sono altre cose ma non quello che noi mangiamo quello non può contaminarci a meno che a meno che perché anche qui bisogna chiarire anche questo a meno che non si tratti di cibo o di sangue o di carni soffocate cioè di animali morti soffocati e non sgozzati perché bisogna mangiare gli animali che sono noi non è che facciamo investigazioni non dobbiamo fare investigazioni però se sappiamo se vediamo che quell'animale una gallina viene strozzata con le mani senza sgozzarla quella non la possiamo mangiare un animale soffocato ecco in quel caso non lo è vietato mangiare quella 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 canna oppure anche le carni sacrificate agli idoli e quelle non le possiamo mangiare ecco queste ci contaminano certo è cibo però ci contaminano perché rappresentano qualche cosa perché comunque si 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 disubbidisce a un comandamento che dio ha dato quindi in quel caso sì che ci contaminiamo ma per quanto riguarda i cibi normali che non abbiano nessun tipo di problematica anche se è carne di maiale anche se sono cozze mitili cose varie che nella legge era vietato mangiare noi le possiamo mangiare perché gesù ha detto di dicendo quelle parole sta scritto quindi che così dicendo dichiarava puri tutti quanti i cibi vedete questa frase importantissima questa risolve il problema per quanto riguarda i cibi nella legge c'era scritto mangia questo non devi mangiare quell'altro c'era un sacco di problematiche per il mangiare e con queste parole gesù ci ha liberato dalla schiavitù della legge perché badate bene noi la legge è ancora in vigore eh badate bene cioè la legge è buona è giusta è santa però chiaramente in quei passaggi biblici in cui la legge è venuta meno come quello dei cibi e gesù ha stabilito che i comandamenti della legge riguardo i cibi non sono più da osservare vedete quindi la legge di dio è stata compiuta adempiuta da cristo gesù cioè è stata diciamo per noi che siamo sotto la grazia è stata modificata in questa maniera perché nella legge c'era l'ombra delle cose che dovevano avvenire per quanto riguarda i cibi puri e i cibi impuri cosa rappresentavano qual'era l'ombra che portava con sé i cibi i cibi impuri praticamente i cibi puri e i cibi impuri rappresentavano rappresentavano la distinzione tra il popolo di israele e tutte le genti che non era non erano non facevano parte del popolo di israele quindi i cibi impuri rappresentavano i gentili praticamente erano impuri davanti a dio mentre israele era erano puri ora per quanto riguarda appunto queste questa distinzione ancora tra i cibi puri e impuri adesso andiamo a leggere in atti degli apostoli dove c'è la conferma la conferma del fatto che il dio ha reso puri i cibi ma la conferma anche che puri i gentili sono poi diventati puri capito il popolo che era lontano il popolo dei gentili che era prima lontano dalla volontà di dio era lontano dalla legge di dio è stato avvicinato in Cristo Gesù dei due popoli di quello puro e gli impuri che erano i gentili ne è stato fatto uno solo puro quindi quindi la rappresentazione vedete dei cibi impuri è venuta meno l'ombra delle cose che contenevano quei cibi impuri è venuta meno sotto la grazia perché nella croce di Cristo in Cristo Gesù i due popoli di due popoli se ne è fatto uno solo quindi i gentili sono diventati puri e questo lo leggiamo è ben spiegato ben spiegato in atti degli apostoli il dio lo fa comprendere a Pietro che era uno dei giudei lo fa comprendere a Pietro e siamo in atti 10 dobbiamo leggere in atti 10 atti 10 dal versetto 9 praticamente il contesto è questo che il dio manda un angelo a parlare a Cornelio Cornelio era un gentile era uno dei gentili lui e tutta la sua casa ora a Cornelio gli ha detto di andare a chiamare Pietro ora il dio per fare in maniera per fare in modo che Cornelio che era giudeo andasse a casa di scusate Pietro che era giudeo andasse a casa di Cornelio che era gentile gli ha dato una visione l'ha dovuto convincere gli ha dovuto spiegare determinate cose che forse ancora non aveva ben capito anche se era ripieno di Spirito Santo anche se aveva conosciuto il Signore anche se aveva la sua spiritualità pure c'erano delle cose che doveva ancora comprendere e questa era una di questi cioè che dio aveva fatto i gentili puri con la morte di Cristo i gentili sono diventati puri non più impuri come erano prima e il dio glielo fa sapere in questa maniera lo leggiamo capitolo 10 di Atti dal versetto 9 or il giorno seguente mentre quelli erano in viaggio e si avvicinavano alla città Pietro salì sul terrazzo della casa verso l'ora sesta per pregare e avvenne che ebbe fame e desiderava prender cibo e come gliene preparavano fu rapito in estasi e vide il cielo aperto e scendere una certa cosa simile a un gran lenzuolo che tenuto per i quattro capi veniva calato in terra in esso erano dei quadrupedi dei rettili della terra e degli uccelli del cielo di ogni specie e una voce disse levati Pietro ammazza e mangia ma Pietro rispose in un modo signore poiché io non ho mai mangiato nulla di immondo né di contaminato e una voce gli disse di nuovo la seconda volta le cose che Dio ha purificate non le far tu immonde e questo avvenne per tre volte e subito il lenzuolo fu ritirato in cielo vedete in questa maniera Dio ha voluto spiegare a Pietro che i gentili erano stati resi puri infatti vedete Dio cosa gli dice gli dice non far tu immondo quello che Dio ha purificato le cose al versetto 15 le cose che Dio ha purificate non le far tu immonde cioè Dio le ha purificate non dice qui che erano sempre state pure no ma che Dio le ha purificate cioè è venuto il momento in cui i gentili sono stati purificati quindi l'ombra che riguarda i cibi è venuta meno ecco perché Gesù ha detto ha detto con quelle parole ha fatto tutti i cibi puri ha dichiarato che tutti i cibi sono puri Gesù perché ormai Gesù era venuto stava per morire sulla croce quindi la rappresentazione dei gentili che erano impuri stava per venire meno perché i gentili si dovevano si dovevano dovevano formare un unico popolo con gli ebrei infatti per quanto riguarda la salvezza non c'è distinzione tra giudeo e greco non c'è nessun tipo di distinzione tra giudei e gentili il Signore salva per fede i giudei così come il Signore salva per fede i gentili quindi quindi non c'è più nessuna distinzione mentre prima la grazia di Dio era i destinatari della grazia di Dio in particolare era il popolo di Israele non erano i gentili ma il popolo di Israele per la maggioranza è chiaro che qualche gentile qualche qualche d'uno veniva come Rab la meretrice e altri altri episodi Naman la vedova di Sarepta di Sidon cioè c'erano c'erano ci sono stati alcuni che Dio ha fatto grazia tra i gentili però per la maggior parte diciamo la grazia di Dio era rivolta al popolo di Israele che era depositario della legge depositario della grazia di Dio e depositario della legge ora invece con la venuta di Gesù non c'è più questa preeminenza da parte del popolo ebraico dei due popoli ne è stato fatto uno solo in Cristo Gesù quindi quindi la figura dei cibi impuri che rappresentavano l'impurità dei gentili ecco che viene meno e quindi Dio gliel'ha spiegato con questa visione a Pietro e Pietro l'ha capito ci ha riflettuto su perché non è che subito uno magari riesce a comprendere però vedete come spiega Pietro quello che ha capito al versetto lo leggiamo 10 25 10 25 quando Pietro si presenta a casa di Cornelio che era gentile versetto 25 dice e come Pietro entrava Cornelio Cornelio fatto gli sincontro gli si gettò ai piedi e l'adorò ma Pietro lo rialzò dicendo levati anch'io sono un uomo e discorrendo con lui entrò trovò molti radunati quivi e disse loro voi sapete come non sia lecito ad un giudeo di avere relazioni con uno straniero o di entrare da lui ma Dio mi ha mostrato che non debbo chiamare alcun uomo immondo o contaminato e per questo che essendo stato chiamato venni senza far obiezioni praticamente vedete qui Pietro confessa cioè non era lecito a un giudeo entrare a casa di un gentile ma confessa che Dio gli aveva mostrato che Dio gli aveva mostrato che lui non doveva chiamare nessun uomo immondo o impuro e quindi è potuto entrare a casa di Cornelio questo per la figura questo per spiegarvi la figura diciamo che cosa rappresentavano i cibi impuri cioè nella sostanza mangiando un cibo impuro un cibo puro per il corpo facevano lo stesso effetto mangiavi ti cibavi e basta non c'era una differenza ma è quello che rappresentavano i cibi impuri che è importante ora con l'avvenuta di Gesù quindi per tornare al nostro argomento principale di oggi che è quello di mangiare la carne adesso noi possiamo mangiare sia animali che sono puri dichiarati puri dalla legge ma anche quegli animali che dalla legge sono dichiarati impuri come il coniglio ad esempio la lepre capite poi erano segnati anche come impuri anche il cammello volendo possiamo mangiare anche il cammello perché si può mangiare era secondo la legge un animale impuro ma oggi sotto la grazia noi possiamo mangiare tutti i tipi di animali quindi vedete volontà di Dio è volontà di Dio ancora manifestata che noi possiamo mangiare tutti i tipi di animali anche Gesù anche Gesù ha mangiato la carne Gesù lo leggiamo dal Vangelo di Luca parla della Pasqua si parla della Pasqua che sono andati i discepoli a preparargli la Pasqua e si sono riuniti per mangiare la Pasqua la Pasqua cos'era? era l'agnello l'agnello di cui già abbiamo parlato prima che veniva sacrificato che ricordava che ricordava il passaggio dello sterminatore in Egitto che ha ucciso i primogeniti e ricorda anche l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto quindi ricordava questo naturalmente nella Pasqua c'è la figura di Cristo c'è anche la figura di Cristo perché la nostra Pasqua è Cristo infatti infatti è grazie al sacrificio di Cristo che noi non veniamo sterminati e grazie al sacrificio di Cristo che noi siamo stati liberati dal regno delle tenebre rappresentato dall'Egitto siamo stati liberati dal regno delle tenebre grazie a che cosa? alla nostra Pasqua che è Cristo che si è sacrificato per noi ha sparso il suo sangue e per il suo sangue lo sterminatore non ci ha colpito e il regno delle tenebre non ci ha potuto più trattenere in se stesso ma siamo stati liberati liberati da Cristo Gesù appunto quindi siamo stati trasportati dal regno delle tenebre al regno dell'amato figliolo che è Cristo Gesù e Gesù ha mangiato la Pasqua ha mangiato l'agnello quindi anche Gesù ha mangiato carne perché per dire Gesù siccome il nostro duce è perfetto esempio di fede è colui che tutti noi dobbiamo seguire ebbene anche Gesù ha mangiato la carne ha mangiato ha mangiato anche i pesci ha mangiato la carne qui in Luca al capitolo 22 quando mangiò la cena del Signore leggiamo versetto 14 quando si riunirono per mangiare la Pasqua anche Gesù mangiò la Pasqua a versetto 22 14 sta scritto e quando l'ora fu venuta egli si mise a tavola e gli apostoli con lui ed egli disse loro ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima che io soffra poiché io vi dico che non la mangerò più finché sia compiuta nel regno di Dio quindi vedete è confermato che anche Gesù ha mangiato carne ha mangiato carne di agnello qualcuno può dire ma ha mangiato solo carne di agnello e beh ha mangiato carne come poi dice l'apostolo Paolo in un altro punto ognuno è libero di mangiare quello che vuole io non lo so se Gesù ha mangiato solo agnello questo non lo so però ha mangiato carne quindi non è vietato mangiare carne Gesù ha mangiato l'agnello e se noi vogliamo mangiare solo agnello mangiamo solo agnello se vogliamo mangiare anche maiale Gesù stesso ha detto che aveva fatto tutti i cibi puri quindi non ha detto che non dobbiamo mangiare carne di animali ma ha fatto tutti i cibi sono diventati puri le carni tutte le carni degli animali sono diventati puri per noi quindi le possiamo mangiare tutte cioè possiamo mangiare di tutti i tipi di cibi quindi la carne di animale si può mangiare ora questo è Gesù ma vediamo l'apostolo Paolo quindi abbiamo visto Pietro e Dio gli disse ammazza e mangia di tutti i tipi di cibi impuri che Dio aveva fatto puri quindi potevano essere ammazzati e si potevano mangiare questo voleva dire in quella visione perché Dio li aveva fatti puri e quella era la volontà di Dio che era manifestata all'apostolo Pietro ma ora vediamo le parole dell'apostolo Paolo a conferma ancora che noi possiamo mangiare di tutto quello che si vende al macello e lo andiamo a leggere in prima Corinzi in prima Corinzi a capitolo 10 capitolo 10 di prima Corinzi leggiamo dal versetto 23 l'apostolo Paolo scrive a Corinzi ogni cosa è lecita ma non ogni cosa è utile ogni cosa è lecita ma non ogni cosa edifica nessuno cerchi il proprio vantaggio ma ciascuno cerchi l'altrui mangiate di tutto quello che si vende al macello senza fare inchieste per motivo di coscienza perché al Signore appartiene la terra e tutto quello che essa contiene allora questo versetto è inserito in un contesto in cui Paolo sta parlando delle carni sacrificate agli idoli che bisogna fuggire l'idolatria allora sta facendo un discorso un discorso che noi dobbiamo mangiare di tutto quello che viene venduto senza fare inchieste nel senso che non è che ci dobbiamo accertare se quello è cibo sacrificato agli idoli oppure no altrimenti andrebbe a finire veramente che qui non mangiamo più niente allora senza fare inchieste mangiate di tutto quello che si vende al macello ma io quello che volevo farvi notare è che Paolo qui sta parlando delle carni di animali al macello si vende la carne di animali che sono stati macellati per la vendita e per essere mangiati quindi anche l'apostolo Paolo quindi vedete anche le parole dell'apostolo Paolo permettono perché anche lui conoscendo la volontà di Dio vedete anche l'apostolo Paolo conferma chiaramente che si può mangiare la carne di animali si può mangiare di tutta quella carne che si vende al macello qui dice proprio tutti vedete dice dice mangiate di tutto quello che si vende al macello senza fare inchieste vedete di tutto quello che si vende al macello quindi senza esclusione di animali perché nel macello si vendono diversi tipi di animali non solo le pecore o gli agnelli ma anche le capre maiali buoi e altri tipi di animali che comunque servono per il cibo per cibare gli uomini e qui l'apostolo paolo esorta quindi corinzia a non fare investigazioni ma a comprare a mangiare di tutto quello che si vende normalmente al macello nei supermercati noi diremo oggi o quant'altro in ogni altro posto dove si vendono degli animali è chiaro che se ci dicono quella carne sacrificata agli idoli oppure una carne che l'abbiamo uccisa soffocandola ci dobbiamo astenere ci dobbiamo astenere se ce lo dicono noi non facciamo inchieste ma se ce lo dicono allora dobbiamo per non offendere il nostro signore Gesù Cristo per motivo di coscienza e anche per motivo di nei confronti per la coscienza di colui che ce l'ha detto non ne dobbiamo mangiare a riguardo di coloro che ce l'hanno detto ma anche a riguardo del fatto che Dio ci ha comandato di non mangiare quel tipo di quel tipo di carni quindi non le dobbiamo mangiare ma per tutto il resto noi possiamo mangiare ogni tipo di carne io ho voluto presentarvi ho voluto presentarvi questa meditazione perché vedo che stanno avanzando quelli che sono contrari a mangiare carne di maiale e di questi la scrittura vedete di questi che vietano il mangiare della carne vietano di mangiare certi cibi la scrittura ne parla qui dobbiamo andare a leggere cosa dice Paolo a Timoteo Paolo a Timoteo prima Timoteo capitolo 4 sono scritte queste parole ma lo spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni appostateranno dalla fede dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni per via della ipocrisia di uomini che proferiranno menzogne segnati di un marchio nella loro propria coscienza i quali vieteranno il matrimonio e ordineranno l'astenzione da cibi che Dio ha creati affinché quelli che credono e hanno ben conosciuta la verità ne usino con rendimento di grazie vedete nei tempi a venire vedete lo spirito santo lo rivela chiaramente ci saranno di coloro che appostateranno dalla fede appostateranno ci sono quelli che un tempo conoscono il signore per un tempo l'hanno conosciuto li ha salvati sono stati riscattati e perdonati e purificati dai loro peccati ma lo rinnegano lo rigettano indietro non ne vogliono più saper parlare sentir parlare di Gesù e non è detto che rinnegando Gesù questi poi si allontanino anche dalla religione dalla comunità o altro possono rimanere lì stesso e insegnare falsità immaginatevi un pastore che rinnega Cristo un dottore che rinnega Cristo quello rimane lì continua a prendersi lo stipendio dai fratelli ma insegnerà che cosa insegnerà dottrine di demoni perché ormai ha appostatato dalla fede e infatti qui dice appunto questo danno retta a spiriti sedutori tra le cose che noi possiamo capire che ci stanno parlando per sedurci è appunto questo che ordineranno l'astenzione da cibi che Dio ha creati vedi vedete cioè tra le cose false che possono insegnare coloro che si sviano dalla verità che sono stati sedotti da spiriti seduttori quindi che presentano dottrine di demoni c'è appunto questa ordinare l'astenzione da cibi che Dio ha creati quindi non prendete la leggera quando qualcuno vi dice che non dovete mangiare questo o quest'altro e non c'è una motivazione biblica perché attenzione se un cibo è sacrificato agli idoli io vi dico sacrificato agli idoli non ne mangiate quello è un conto ma se uno vi dice non mangiate carne di maiale perché che ne so è troppo grassa oppure vi fa venire cancro vi fa male ma questo non ha senso quello è il cibo che Dio ha creato non vi fa venire proprio nulla e soprattutto se noi lo prendiamo lo mangiamo con rendimento di grazie se noi mangiamo con rendimento di grazie che cosa ci deve far venire? niente se abbiamo fede in Dio se abbiamo ringraziato in Dio di questo cibo è un cibo che Dio ha creato per essere mangiato qual è il problema? non c'è nessun tipo di problema quindi se viene a voi uno con qualche scusa con qualche con qualche giustificazione banale vi dice di non mangiare questo sappiate che quelli sono spiriti sedutori quelli sono sono dottrine di demoni è qualcosa che viene dal maligno non importa chi ve lo sta dicendo quindi non prendetelo alla leggera voi stessi non cominciate a dire che questo cibo non si deve mangiare perché non va bene davanti a Dio o avete una motivazione biblica per dire che certi cibi non si mangiano o altrimenti attenzione perché poi mettete il dubbio nel fratello che sta mangiando quindi state facendo l'opera del diavolo gettare il dubbio sugli altri e questo non deve avvenire non dobbiamo fare il lavoro del maligno dobbiamo dobbiamo semmai servire il signore non il maligno qui non dobbiamo farci sedurre da certe chiacchiere che si dicono in giro il grasso del maiale può farvi venire che cosa può far venire a me non mi piace il grasso cerco di non mangiarlo ma se ne ingerisco qualche parte e ho ringraziato il Dio che fa quel cibo che ho ringraziato il Dio poi mi fa morire capite semmai il Dio mi può punire per il mio condotto se sbaglio se pecco se mi conduco malamente allora il Dio mi può colpire ma non c'entra niente il cibo però perché il cibo se ne va nella latrina noi preghiamo noi mangiamo di tutto di tutti i tipi di carni ringraziamo il Dio che ci ha provveduto quel cibo chiediamogli di purificarlo da ogni male e mangiamo tranquilli e sereni senza nessun problema stando attenti di quelli che vengono a noi a dirci questo non lo mangiare questo altro non lo mangiare perché c'è un altro problema questo si è scoperto che c'è un altro problema a parte che se ci vengano a dire che gli animali sono gonfiati di ormoni noi gli dobbiamo rispondere ma pure i vegetali ormai molti sono OGM quindi sono modificati geneticamente sono pieni di pesticidi cioè qui o non mangiamo più niente o altrimenti mangiamo tutto ringraziando il Dio senza nessun tipo di problema quindi non dobbiamo farci prendere certi discorsi che non hanno alcun senso qui è tutto contaminato l'aria è contaminata l'acqua è contaminata i cibi sono contaminati questo lo sappiamo in linea generale lo sappiamo ringraziamo il Dio e mangiamo respiriamo e beviamo acqua e siamo tranquilli dobbiamo vivere tranquilli altrimenti viviamo in una paura completa è inutile che ci asteniamo da un tipo di cibo che pensiamo sia contaminato e tutti gli altri sono contaminati lo stesso se proprio andiamo a vedere se noi volessimo fare un'indagine un'inchiesta generale su tutti i cibi e la facessimo noi ci renderemo conto che potremmo non poter mangiare di nulla perché tutto potrebbe essere contaminato ma noi noi non dobbiamo guardare a questo noi dobbiamo guardare a Dio dobbiamo guardare al Signore nostro Gesù Cristo comprare di tutto quello che si vende e ringraziare Dio che ce l'ha provveduto chiedergli di purificarlo da ogni male eventualmente ci sia e mangiare tranquillamente la nostra coscienza non ci deve accusare di nulla se la nostra coscienza ci accusa allora non va bene allora dobbiamo capire il perché e rigettare quello per cui la nostra coscienza ci sta accusando quindi è chiaro che se uno la sua coscienza lo accusa e lo spinge a non mangiare carne di maiale ma di mangiare solo legumi se si sente meglio così spiritualmente si sente libero così che faccia pure così però non può giudicare noi che mangiamo di tutto io non disprezzo quella persona e lui non deve giudicarci non ci deve giudicare perché noi mangiamo di tutto quindi era questo questo messaggio fratelli e sorelle che volevo darvi quest'oggi per darvi uno spunto per riflettere per studiare e per rispondere a questi che vengono e dicono che dicono certe cose perché guardate bene è importante che voi rispondiate su facebook al telefono dovunque voi vi troviate perché perché può essere che ci sono quella persona magari non si convincerà però ci sono molti altri che leggono e sono magari deboli e indecisi e voi lo vostro scopo è quello di intervenire di liberare quelle persone che sono nel dubbio liberarle da eventuali dubbi la devo mangiare o no questa carne di maiale questa carne di animale questo pesce lo devo o no o no o non lo devo mangiare questo noi dobbiamo tendere sempre a liberare le persone noi non sappiamo tutti quelli che ci stanno seguendo che stanno leggendo quindi quando ci troviamo dobbiamo rispondere fermamente e dire che noi possiamo mangiare di tutto anche carne di maiale perché così è scritto nella parola di Dio la volontà di Dio è chiara nelle sacre scritture a riguardo di questo di questo soggetto di questo per quanto riguarda i cibi noi li possiamo possiamo mangiare anche la calma possiamo mangiare tutto quello che che ci sentiamo di mangiare con ringraziamento con ringraziamento ringraziando di Dio di ogni cosa ma siamo liberi l'importante che siamo liberi nella nostra coscienza a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli Amen